Centro di sperimentazione agraria e forestale di Leinburg, a poca distanza da Vadena. Un vero e proprio punto di riferimento non solo a livello locale per quello che significa studio, approfondimento e sviluppo di nuovi sistemi nel mondo dell'agricoltura e delle piante in generale. Nel corso degli ultimi due anni i ricercatori e le ricercatrici di questo centro di sperimentazione hanno seguito circa 360 progetti di ricerca e attività ogni anno. Per il 2014 sono in programma 352 iniziative di questo tipo. Nel 2013 ammontano a 2 milioni e 300 mila euro i finanziamenti esterni ottenuti per nuovi progetti di ricerca. Abbiamo diversi programmi strategici che vengono scelti da diversi motivi. Un motivo è la qualità sulla quale dobbiamo puntare, poi la salute delle piante, l'agrodiversità e poi anche perché siamo in montagna, l'altitudine e la montagna. Il centro di ricerca e sperimentazione di Leinburg ha deciso di rendere nota la sua attività attraverso una pubblicazione che riassume quanto fatto nel biennio 2013-2014. Il report Leinburg offre inoltre una panoramica sui dati e sulle cifre più importanti del centro di ricerca. Un modo concreto per far comprendere quanto sia importante per la vita di ogni giorno di tutti noi quello che si fa in questi laboratori. La nostra ricerca è la base per l'innovazione nell'agricoltura di domani. Noi mettiamo a disposizione tutti i risultati agli organismi, ai servizi di consulenza ma anche ai contadini direttamente. Questo da una parte sono le varietà, cosa sarà una prossima varietà da piantare, dall'altra parte anche tante analisi di laboratorio per la concimazione, per esempio in questo laboratorio facciamo più di 10.000 campioni all'anno. Quali micro-organismi si trovano nella vita più antica del mondo a Castel Katzenzungen? Come viene giudicato il sapore della mela a polpa rossa in confronto con le altre varietà di riferimento come Gala o Smith? Quali effetti hanno le attuali strategie contro gli scopazzi del melo? Sono queste alcune delle domande alle quali le ricercatrici e i ricercatori di Leinburg hanno risposto nei propri progetti di ricerca nel corso degli ultimi due anni e raccolti poi nel Leinburg Report 2014. I brevi testi del Leinburg Report accompagnati da foto e grafici offrono sia agli appassionati della ricerca che agli esperti del settore una sintesi del lavoro di ricerca svolto presso la Leinburg.